Sono ricchi e i demeriti di Rimini, ci avete provato in tutti i modi, anche cambiando di volte pelle, anche in difesa, alla fine dove sta la lettura di questo match? Prima complimento per le squadre, perché abbiamo fatto la squadra per vincere il campionato e secondo me vinceremo il campionato. Quindi cerchiamo di fare il meglio che possiamo, perché a volte giochiamo a casa, in particolare, meglio contro i buoni squadre e non è buono per il nostro livello o sotto il nostro livello. Però il problema è che non giochiamo così bene contro le squadre, il nostro livello è un livello più basso. E credo che abbiamo un momento, 6 punti, in cui facciamo la concentrazione e un momento, quando siamo arrivati a meno 6, quando siamo arrivati a meno 6, fallo sul panzini e canestro, forse se andavamo a meno 4, meno 3, forse cambiava in quel momento la partita. Abbiamo provato a cambiare la differenza sulla zona, abbiamo provato a cambiare la differenza sulla zona, abbiamo provato un po' di cose, un giorno, ma non sempre. Non voglio dire nulla, ma la squadra, ok, la squadra è una buona squadra, è un fatto. Ma hanno avuto 30 tiri liberi, e noi solo 12. Abbiamo avuto 20 punti da queste tiri liberi, abbiamo avuto 8. In questo modo, il referee è vero, quindi abbiamo giocato davvero per il buon team. Penso che per perdere il gioco è il nostro errore, perchè abbiamo avventurato l'opposto, hanno solo un grande gioco. In questo momento dovremmo tirare 29 tiri di tre. E' divertente. La squadra di Forlì aveva buoni giocatori, non avevano buoni giocatori nei posti. Ma hanno più giocatori nei posti nei posti che noi. Forlì è più forte sul perimetro. Invece loro hanno tirato più dal sotto per nestro di noi. In questo momento dovremmo tirare 3 tiri, 4 da 13. E avremmo tirare 29 tiri. Ma è ok. Abbiamo piccoli giocatori. Proviamo a fare il migliorio di poter ottenere il gioco. Perché il derby ha cambiato l'obiettivo di questo gioco. Quindi credo che il termine del derby ha cambiato tutto. Per me è il favorito in questo gioco. Ma proviamo a giocare sul stesso livello. Facciamo qualcosa. Abbiamo giocato abbastanza. E per tanto tempo abbiamo giocato più o meno sul stesso livello. In questo momento abbiamo giocato molto semplici punti sul posto. E dopo questo abbiamo ricevuto 2-3 punti. Quindi il gioco è finito 3 minuti prima l'inizio. E la partita è finita dal terzo settesimo. E non mi concordo con quello che facciamo nelle ultime 3 minuti. Abbiamo tirato sempre punti. Perché un'altra squadra deve rispettare il gioco. Come il nostro squadra deve rispettare il gioco. Dobbiamo giocare 40 minuti, non 37 minuti. Dobbiamo giocare. Perché questo è solo un modo di fare qualche step up. Ma il vero è che la squadra per noi è un buon squadra. È meglio di noi. Abbiamo 9 giocatori, giocatori con più esperienze che noi. Quindi abbiamo due giocatori. Due giocatori per esperienze. C'è Tasso, Charlie e Lovo.